eccoci ciao ciao come state bene grazie da dove chiami da da roma siamo su marte allora neri cristian massimo voi siete insomma rappresentate una vera e propria tradizione che effetto vi fa quest'anno non uscire al cinema ma entrare direttamente a casa degli italiani beh una gioia una gioia perché l'alternativa era non fare niente e penso che la warner che distribuisce il film abbia avuto un'idea perfetta quella di uscire sulla piattaforma perché se fossimo usciti nei cinema col 50 per cento in meno delle sale sarebbe stato un flop un insuccesso se fossimo usciti invece con i cinema aperti come era una volta sicuramente sarebbe stato secondo me un bel successo perché il film è molto divertente un film comico ed era da tempo che massimo e neri ed io non lavoravamo insieme dai tempi di natale a miami quindi uscire oggi sulle piattaforme e su tutte le piattaforme devi pensare che è il primo film italiano che esce con una clamorosa uscita su su sky prima fila amazon apple tv chili insomma tutte le altre quindi è stato giusto uscire così ad esempio mio cognato carlo verdone purtroppo ha un film fermo in un cassetto che non si sa quando uscirà dicono a gennaio dicono ad aprile insomma stanno rischiando e noi invece usciamo adesso e quindi portare il cine panettone che è diventato quest'anno il tele panettone nelle case nei salotti dei nostri amici del nostro pubblico a regalare un po di risate in un momento così critico è una grande soddisfazione per noi che facciamo questo mestiere sai cosa facevo prima quando uscivano i nostri film al cinema io giravo andavo non so nei paesi a roma a torino a genova o nei paesini a vedere dove ridevano se ridevano su quella battuta oppure ridevano su quelle cose ed era adesso quest'anno non posso andare a casa non ho capito per chi è la domanda scusami per te neri per te ah scusa perché massimo ha fatto rumore beh io in realtà io come diceva prima cristia l'ultimo film che abbiamo fatto noi tre insieme risale a 15 anni fa era natale a miami e io da lì ho ricominciato quindi per questo anche probabilmente ci hai visto dei sapori che sono molto simili perché quella era una formula che secondo me funzionava anche se a volte un po criticata giustamente o ingiustamente per qualcosa di eccessivo di troppo trasgressivo ma insomma sembrava funzionare e quindi io mi sono riagganciato a quel film lì facendo come un come nel nostro film c'è un salto temporale un salto temporale e pensare a questo film come se fosse il seguito di natale a miami quindi è normale che tu ci abbia visto certi come dicevo prima certi sapori uguali a proposito potremmo veramente continuare stai buono fai parlare lui e fake news influencer insomma il mondo dell'attualità continua a esserci sempre mischiato a una grossa dose di risale di buon umore possiamo dire che sono questi due gli elementi che comunque vi rendono praticamente immortali e con un successo incredibile anche sulle nuove generazioni sempre per me o per cristian come volete ha rivolto a tutti e tre beh certo tutte le volte si è sempre cercato di inserire un elemento giovanile nel film sempre di più più che noi diventavamo grandi naturalmente e che quindi non potevamo io parlo io come scrittore massimo e cristian come attori più interpretare un certo tipo di ruoli quindi si è demandato a degli attori più giovani tutto quello che proprio sentimento amore infidanzamenti e cose del genere ma è stato diciamo una cosa naturale anche perché noi per l'avanzare dell'età e per il fatto che ci sono certi argomenti che si possono trattare per esempio quello che dicevi te dell'influenza dei debunkers e queste cose qui lo devi per forza affrontare con interpreti giovani e non con interpreti un po' attempati beh sì certo io non potevo più continuare a fare quei personaggi sciupa femmine che facevo sempre appresso alle donne ho fatto un marito bugiardo mascalzone che vuole sposarsi la sua amante più giovane ma insomma non ho la storia d'amore piuttosto ho un affare da da risolvere che quello della mia vita mentre invece prima facevo l'amante e facevo ruoli che erano adatti alla mia età adesso che c'ho l'età che ho neri ha pensato di di cambiare un po ed eccoci qua eccoci qua fra un po faremo vacanze all'ospizio e e vediamo se andiamo avanti ancora qualche anno io invece visto che ho un nipote ho tre nipoti un nipote che ha 19 anni praticamente mi sono mi sono calato nel personaggio come massimino e piano piano ciao papà devi tornare dalla mamma ciao 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 ciao